hello my friend ciao 1 2 3 voi pensate sta dando i numeri no no amici questa è la terza lezione la lezione numero 3 e oggi cosa che facciamo impariamo i numeri a contare e vediamo delle nuove parole ma qualcosa in più ascolta la mia voce facciamo comunque un piccolo ripasso vi ricordate nei due video precedenti vi ho detto come state ciao a tutti e tu come stai com'è che si dice io sto bene io sto così così io sto male ma non importa se avete problemi andate a rivedere i video oggi impariamo che cosa facciamo delle nuove scoperte delle nuove qualcosa di nuovo impariamo i numeri e poi ad esprimere le vostre preferenze e priorità le preferenze è qualcosa sono quel qualcosa che vi piace le priorità è di fare un elenco una lista delle cose che vi piacciono 1 2 e 3 ok ma andiamo con calma che numero è questo allora provate a dirlo prima nella vostra lingua in your language e adesso impariamo nella lingua italiana 0 ripetete insieme a me 0 1 2 2 3 4 5 6 6 7 8 8 9 10 ripetiamoli dai 0 1 2 3 4 6 6 7 7 8 9 10 ripetiamoli dai 0 1 2 3 4 6 7 7 8 8 8 9 9 10 ripetiamoli dai dai 0 1 2 2 3 5 6 7 7 8 10 Quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Allora, adesso andiamo a vedere dei nuovi nomi, solo dieci. Andiamo lì a vedere. Abbiamo l'amore, che è questo. Il lavoro, che è questo. Oppure la casa, questo. La famiglia e gli amici. Allora, amore, lavoro, casa, famiglia, amici. Papà, mamma, due figli. Fratello, sorella. Figlio, figlia. Oppure abbiamo questi nomi. Studio, vacanza, sport, tempo libero, cibo. Ripetiamo. Studio, vacanza, sport, tempo libero, cibo. Qual è? What is the most important thing of you? Qual è la cosa più importante per voi? Allora, prendete un foglio e scrivete una lista. Pensate alla cosa più importante. La lista, facciamo una cosa. Le parole che vi ho scritto, qui, le scrivete in your language e qui in italiano. Va bene? Così vi potete dare una mano. Uno, due, tre. Quelle che abbiamo visto. Ora vi faccio vedere la mia lista. E dovete farlo anche voi. Per me la cosa importante è la famiglia. Mia moglie e mio figlio. Mio figlio si chiama Leonardo. Mia moglie si chiama Araya. Però io tante volte la chiamo Luna. È un nick. Ok? La seconda cosa, scusate, la seconda cosa più importante, la numero due, per me è l'amore. L'amore verso la mia famiglia, verso mio figlio e mia moglie. La numero tre sono gli amici. Gli amici sono importanti. The friends are very important. Il quarto, la cosa per me, la quarta cosa più importante, è il cibo. Mi piace la pizza. Mi piace la pasta. Mi piace il pesce. Poi abbiamo la casa, la numero cinque. Poi ho il lavoro. Il lavoro serve per poter vivere. Ma cosa serve il lavoro se manca lo studio? Quindi, al settimo posizione, abbiamo lo studio. Ma dopo lo studio cosa ci vuole? Un po' di tempo libero. Per se stessi, per la famiglia, per stare anche con gli amici. Ma serve un po' di tempo libero. Ma nel tempo libero potete fare lo sport. Calcio, tennis, sci, se è inverno. E non da ultimo cosa c'è? Le vacanze. Andare via con la famiglia. O con gli amici. Ci siamo. Ora ripetiamo assieme. Allora, abbiamo visto i numeri. 0, 1, 2, il 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ora poi abbiamo visto queste parole. Però, attenzione. Abbiamo visto anche un'altra cosa. Queste qui. Sono delle nuove. Dire parole non è corretto. Sì, è un qualcosa che si chiamano articoli. Articoli determinativi. Adesso li andiamo a vedere. Vi li spiego un attimo. Un pochettino. Ritorniamo sulle figure. Non vi preoccupate. Allora. Gli articoli determinativi. La casa femminile. La casa. La casa. Il cibo. Il cibo. Maschile. L'amore. Maschile. Sarebbe lo amore. Ma qui ve lo spiegherò più avanti perché c'è questa forma. Ok? Il lavoro. Maschile. Maschile. Singolare. 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 Lo studio. Maschile. Singolare. Lo. Si usa davanti a S. Con la consonante. Il davanti a consonante. Attenzione. Non dico il studio. Ma comunque verrà spiegato su un prossimo video. Lo sport. Ok? S. Consonante. S. Consonante. Le vacanze. Le vacanze. Femminile. Plurale. Le. La casa. Femminile. Singolare. Se fosse due, allora direi le case. Amici. Maschile. Plurale. Gli amici. Le vacanze. Plurale. Femminile. Allora. Voi fate adesso una lista. Come volete voi. Ditemi qual è la cosa più importante per voi. Ok? Fatevela. Eventualmente potete mandarmi una email che ve la lascerò. Così vediamo anche assieme la vostra lista e eventualmente un aiuto. Ok? Usate anche questi qui. Attenzione. Attenzione. Qui. Lo sport. Maschile. Singolare. Per il momento è tutto amici. Ci rivedremo con un nuovo video. Io sono sempre Alberto. E a presto. Ciao.